Buongiorno, buon martedì. Buongiorno, buon martedì. Poi ancora per quanto riguarda le elezioni, Equitalia Giustizia fa 30 assunzioni a Pescara. Scendiamo ancora a centropagina, nelle cronache Pescara, ragazza in ospedale palpeggiata e picchiata dal branco in un locale. Andiamo a leggere anche un estratto dell'articolo. L'hanno accerchiata in cinque, hanno cercato di palpeggiarla e quando lei si è difesa l'hanno picchiata. È successo in un locale di Pescara. La vittima ha 21 anni e per cui l'aggressione da incubo è finita in ospedale. L'episodio risale alla notte di carnevale tra il 13 e il 14 febbraio e da allora stanno indagando le forze dell'ordine. Proprio in occasione del carnevale la giovane pescarese si trovava con la sorella di 18 anni e alcuni amici in un noto locale cittadino quando intorno all'uno hanno raggiunto il bagno, ignorando di essere stata presa di mira da un gruppetto di ragazzi che invece in un attimo l'ha cerchiata iniziandola a palpeggiare le urla della ragazza. Hanno richiamato la sorella, suscitando la reazione del branco che ha picchiato la 21enne rompendole un dente. Lei è finita in ospedale. Continuiamo nello spazio delle cronache. La Lilt rischio tumori, la prevenzione è poca. L'associazione lancia l'allarme. Ancora da Montesilvano, pirata della strada, caccia ad una Clio blu. A centro pagina invece la fotonotizia per problemi di ordine pubblico. Pescara Carpi questa sera non si gioca. Vedete la foto dello stadio adriatico Cornacchia in biancato. Andiamo a leggere nella didascalia la partita di Serie B. Il turno infrasettimanale fra Pescara e Carpi che questa sera si sarebbe dovuto giocare allo stadio adriatico è stato rinviato per maltempo. Il sindaco Alessandrini ha emesso ieri l'ordinanza per problemi di ordine pubblico. La partita potrebbe essere recuperata il 13 di marzo. Proseguiamo nel taglio basso. Andiamo a vedere anche il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna. Se una nevicata porta la rivoluzione in tv, andiamo a vedere che cosa è successo, che cosa si riferisce Giuliano Di Tanna. La spiegazione la troviamo qui. Quello che è successo ieri nei programmi del mattino di Rai 1, saltati a causa di una nevicata. I fatti vostri, previsto alle 11 su Rai 2, non è andato in onda per la difficoltà di pubblico di alcuni ospiti e di alcuni tecnici di raggiungere gli studi. E così è accaduto anche per buono assapersi di Elisa Isoardi e anche per la prova del cuoco. Quindi un cambio di palinsesto anche nella tv di Stato che non è molto usuale. Proseguiamo con la lettura del quotidiano Il Centro. Questa è l'edizione di L'Aquila Vezzano sul Mona. Crolla il soffitto della chiesa in apertura. L'edificio sacro di Marrucira appena stato restituito dopo i lavori del sisma. A centro pagina vediamo l'emergenza maltempo in tutta la provincia. Disaggine e le frazioni, il pericolo e il ghiaccio. Vedete le persone intente a spalare i cumuli di neve. Si tratta di genitori a tecnici che liberano il campo da rugby in piazza d'armi. Andiamo a vedere nelle cronache. L'Aquila, l'ASL, caso risolto, offre il voto per un posto letto in ospedale. L'ex assessore del comune dell'Aquila, Gianvito Pappalepore, ha dovuto portare l'anziano genitore colpito dall'ischemia in auto all'ospedale. Poi ha dovuto aspettare ore perché non c'era un posto letto per ricoverare il papà. Alla fine il posto è uscito. Mio padre non ha fatto sacrifici per ottenere questo. Dopo ribaltone siamo ad Avezzano. Patto per Avezzano c'è anche l'Udc. E poi Capestrano, schianto mortale, giovane sotto accusa. Queste le altre notizie dall'Aquilano. Adesso cambiamo edizione. Passiamo invece a quella terramana. In apertura pericolo ghiaccio. Scuole chiuse. La nevicata ha creato disagi limitati in provincia. Ma ora si teme il grande gelo con le temperature che già questa notte hanno raggiunto i meno 4 o meno 6. Andiamo a vedere nella fotonotizia di centropagina. Paura a Roseto. A fuoco il tetto di una villetta. Salvi due bambini. Un cammino acceso. Leggiamo dalla Didascalia. Mandato a fuoco il tetto di una villetta alla periferia di Roseto in zona cimitero. Tanta paura per gli occupanti. C'erano anche due bambini piccoli ma fortunatamente nessun ferito. Andiamo a vedere invece nello spazio delle cronache contro la copertura. Teatro Romano parte un esposto in procura e dunque finisce davanti ai magistrati il progetto del teatro romano con una struttura in vetro e acciaio che dovrebbe chiudere i resti del teatro antico di Teramo. a chiedere l'intervento dei magistrati sono il presidente di Teramo Nostra Piero Chiarini e Antonio Topitti, presidente comunale di Confesercenti. E poi ancora i fondi non spesi, scuole, lavori fermi per 60 milioni. E poi scontro PD articolo 1 Giulianova. La giunta rischia di cadere. Giunta guidata dal sindaco Francesco Mastromauro. Andiamo sulla pagina di Chieti Lanciano Vasto, sempre sul quotidiano Il Centro. Crateri lungo le strade dopo la neve. In apertura, asfalto distrutto, allarme a Chieti. Di primio, subito i lavori, chiuse scuole e università. E sempre restando in tema di grande freddo, volontari a Roccamontepiano. I migranti ripuliscono le strade del paese. Andiamo a leggere nella Didascalia. Extracomunitari al lavoro per liberare dalla neve le strade di Roccamontepiano. Sono i migranti ospitati nel centro gestito dalla cooperativa Matrix. Il sindaco Carulli dice, ringrazio i ragazzi richiedenti asilo che si stanno adoperando gratuitamente. Accoglienza e solidarietà reciproca. Ogni tanto anche una bella storia, non soltanto pagine di cronaca nera. Nelle cronache, il caso Ortona, evade il fisco. Nove case sotto sequestro, sequestrati, beni immobili per un valore di 234 mila euro. Nove fabbricati nel comune di Ortona, dei militari della tenenza della Guardia di Finanza ortonese, al titolare di una ditta individuale indagato per dichiarazione infedele, domesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, eccedente limite di 10 mila euro. Continuiamo con la lettura della prima pagina. Teatina, Chieti, l'asilo nido è pronto, c'è posto per 60 bimbi, è ancora vasto. L'Aqualand in vendita, ma il sindaco dice di no. Diamo avanti e cambiamo testata. Adesso passiamo al messaggero, questa è la prima dell'inserto Abruzzo. In apertura freddo e neve, Buran è arrivato da Pescara all'Aquila. Le città fanno i conti con i disagi, circolazione difficile per i treni e autobus, scuole chiuse. Nel Chietino si ferma anche la Sevel e adesso la paura è il gelo. Andiamo a vedere anche la fotonotizia. Il segno dei tempi, il maltempo su Facebook, passaggi bianchi e salsicce diventano virali. Continuiamo con Teramo, la beffa, un allarme esagerato ed è polemica. Gli allarmi dei giorni precedenti hanno avuto un effetto paradossale a Teramo. Negozi e bar deserti, niente bus in circolazione, nonostante la modesta nevicata. Andiamo avanti, andiamo a vedere la cronaca. Pestaggio all'alba, i feriti sono tre, scatta un arresto. Pescara, in manetto un romeno di 19 anni, denunciato l'amico Mistero sul movente. Andiamo a vedere di cosa si tratta nel dettaglio. Individuati dalla polizia, due responsabili della violenta aggressione avvenuta all'alba di domenica sul lungo fiume di Pescara. Uno è un romeno di 19 anni, residente sempre nel capoluogo, arrestato con l'accusa di lesioni personali aggravate. Denunciato l'amico pescarese di 17 anni che era con lui, ancora ricercato un terzo uomo. E si scopre che i feriti nel pestaggio sono tre, oltre al trentenne di Silvi, ricoverato in gravissime condizioni. In ospedale sono finiti altri due amici, ancora ignoti i motivi dell'aggressione. E poi a Ortona, maxievasione, sequestrati nove immobili. Abbiamo visto anche in precedenza sul quotidiano il centro. Andiamo di spalla, ritroviamo il meteo, niente tregua fino a giovedì, temperature in picchiata. Il grande gelo è arrivato come era stato però ampiamente previsto. Bollettini e protezioni civile prevedono minime fino a meno 15 nelle zone interne della regione. Andiamo nel taglio basso adesso verso le elezioni. Chieti in provincia, la sfida è aperta. Tutte le previsioni parlano di una volata a tre per l'aggiudicazione del seggio dell'uninominale alla Camera del Collegio Lancianova-Stortona. Sono due donne, Marusca Miscia, centrosinistra Carmela Grippa dei Cinque Stelle e un uomo, Enrico Di Giuseppe Antonio, del centrodestra. Andiamo nel taglio alto adesso a vedere le altre notizie sul messaggero. L'Aquila rinasce, 40 milioni per i cantieri, il centro torna all'antico splendore. Poi l'inchiesta, Pescara, ecco gli uffici che riescono a tagliare le file. E ancora il calcio si ferma, Pescara Carpi rinviata, Sky deciderà il recupero. Nel frattempo a casa del Teramo, Bacio Terracino, il giocatore migliore, può saltare e Padoa. Si fermano per il maltempo tutte le attività, decide il comitato federale della FIGICI. Proseguiamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo. Andiamo a vedere anche qui il titolo di apertura del giornale. Odissea in aeroporto per i liceali. Niente gita all'estero per gli studenti del Chiuri, bloccati a Ciampino per 48 ore a causa della neve. Andiamo a vedere a centropagina, nella fotonotizia, ma al tempo la neve Buran ha causato solo qualche disagio. Allarme gelo, scuole chiuse. Sotto la fotografia, villette in fiamme per un camino. Abbiamo visto quanto accaduto a Roseto, dove è bruciato il tetto in legno di un'abitazione che è attualmente inagibile. Nel taglio alto, andiamo a vedere le altre notizie. Teramo, il commissario allarga la gara per la Team, ma ancora negozio e chiede i danni per i lavori sul corso del capoluogo. Di spalla la lettera del manager ASL di Teramo, basta con le promozioni automatiche a crocetta. E poi, Chiarini e Topitti, Teatro Romano, nel dubbio scatta l'esposto. Andiamo a vedere anche il taglio basso. Atri, passeggiata panoramica del Belvedere in memoria di Domenico Martella. Questa era la prima pagina della città che chiude questa panoramica sui titoli regionali. Adesso apriamo lo spazio dedicato al nazionale, andiamo a vedere i principali titoli dei quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera, treni nel caos per il gelo. In apertura, la neve, raggi sotto accusa, anticipa il rientro dal Messico, dove stava partecipando in un convegno sul clima. Del Rio chiede chiarimenti alle ferrovie. Ritardi fino a sette ore, Roma si ferma, rischio di scuole chiuse per giorni, anche perché ci sono le votazioni. E dunque le scuole che saranno seggio dovranno per forza di cose restare chiuse. Elezioni, Renzi e la resa dei conti, resto anche se perdo. Tajani, io candidato premier, stiamo parlando ovviamente del centrodestra, dice sto con Berlusconi. Cambiamo testata, andiamo sulla Repubblica. In apertura il titolo principale di politica, Renzi, resto anche se sconfitto. Il segretario dei democratici dice ci attaccano perché possiamo essere il primo partito. Questa è la settimana decisiva. Casa Pound, pronti a sostenere Salvini premier, il leader della Lega. Dopo il 5 marzo incontrerò tutti. Nel taglio alto vedete questa bella foto dal Pincio che guarda Piazza del Popolo a Roma. Roma città chiusa per neve, treni nel caos, l'Italia spezzata. Andiamo sulla stampa. Nel titolo di apertura, l'Italia dei treni ferma per gelo. Vedete questo è l'argomento principale della giornata. Rimozione della neve guasti, mandano in tilt i trasporti, migliaia i passeggeri bloccati. La perturbazione era prevista ma ci sono stati ritardi di oltre 5 ore. Oggi si rischia il bis, disagi nella capitale e le scuole restano chiuse. E poi troviamo anche la politica. Casa Pound offre l'aiuto a Salvini. La Lega non chiude la porta per un governo che ci porti fuori dall'Unione Europea, scrive la stampa. Andiamo sul Sole 24 Ore. Il titolo di apertura del principale quotidiano economico e finanziario italiano, PIR e sconti fiscali. Semplificate le regole. Circolare delle entrate, intestazioni minori solo se i genitori non hanno altri piani. Rafforzato il legame degli investimenti con l'Italia. Andiamo a vedere il maltempo. In tilt il nodo di Roma, ritardi di 7 ore per l'alta velocità, intercity cancellati. Vedete i ritardi che ci sono stati alla stazione Termini di Roma. Continuiamo con il fatto quotidiano. Andiamo a vedere in apertura. 20 centimetri, tra parentesi, previsti di neve. Bloccano i treni in tutta Italia. Disastro ferrovie, disagi a Roma. Scuole chiuse anche oggi è allerta a ghiaccio. Proseguiamo con la politica. Meno 5 al voto. Renzi, resto anche se perdo. Il PD rischia grosso nei collegi. Ormai i big non sono più allineati al segretario. Roulette all'uninominale. Proseguiamo con la lettura dei giornali nazionali. Adesso passiamo al manifesto, il quotidiano comunista. L'era glaciale, sulla foto di Matteo Renzi. Andiamo a vedere perché. La buriana elettorale soffia sugli ultimi giorni di campagna e gela il PD con le previsioni di vittoria del centro-destra e di sconfitta del centro-sinistra. Renzi mette le mani avanti e gioca d'anticipo contro chi vorrebbe cambiare leader. Il PD perde. Io resto comunque segretario. Andiamo a vedere sotto la fotografia. La Siria fino a Praga è arrestato un leader kurdo. Putin ordina la tregua unilaterale su Guta Est. Afrin smentisce Erdogan. I turchi non avanzano. E poi territori occupati palestinesi. Blizzi istraeliano contro Nabisale in prigione. Mezza famiglia Tamini. Questo per quanto riguarda l'estero. Andiamo a vedere il messaggero. In apertura il maltempo. Roma sbanda per la neve. Odissea treni. L'imbiancata notturna paralizza la capitale. Uffici pubblici deserti. Taxi introvabili. Autobus e tram bloccati. Dopo le critiche. Raggi rientra dal Messico. Scuole a rischio chiusura per nove giorni. Come detto per la concomitanza di maltempo ed elezioni. Caos a termini. Maxi ritardi in tutta Italia. E poi nel taglio alto il Campidoglio chiede l'aiuto dell'esercito. Appello ai cittadini. State a casa. Vedete questa fotografia di persone che si divertono a giocare a palle di neve davanti al Colosseo. Andiamo sul quotidiano Il Tempo. Restiamo ai giornali romani. Una figuraccia coi fiocchi con la foto del sindaco Raggi travestito. Un fotomontaggio con un pupazzo di neve. Roma in tilt per un po' di neve. Bus fermi. Soldati a spalare. Alberi caduti. Perdite per milioni di euro. Una foglia alle scuole chiuse pure oggi. Presidi in rivolta. Però il concorso con 22 mila persone si fa. Caos sulla Raggi che anziché affrontare l'emergenza è volata in Messico. Andiamo su Libero. Quotidiani di centrodestra. Ancora per Roma un po' di neve. E come la bomba atomica. La capitale gela. Raggi in Messico a parlare di clima. Pochi centimetri di coltre bianca. Ed è il caos nella città eterna. Mezzi fermi. Scuole chiuse. Treni in ritardo di ore. La sindaca intanto abbandona i cittadini. Pur sapendoli in difficoltà. Il maltempo. Questo lo possiamo dire senza tema di smentita. Entra nella campagna elettorale. Che è all'ultima settimana. Andiamo a vedere questo editoriale di Vittorio Feltri. Maggioranza impossibile. Questa volta Juncker ha ragione su di noi. Saremo senza governo. E vedremo l'effetto di questa nuova legge elettorale. Andiamo sulla verità. Il ritorno del professore. Tra parentesi e dei suoi. Tutti gli amici dittatori di Prodi. L'ex premier finisce nel Russia Gate. I giornali sorvolano. Lui smentisce e si prepara a un ruolo da protagonista dal 5 di marzo. Mortadella ha un lungo trascorso di rapporti eccellenti con paesi non proprio democratici. Cina, Iran, Kazakistan e Libia. Questo per quanto riguarda il titolo di apertura di politica. Poi andiamo a vedere anche la fotonotizia poco islamica macerata alla nuova Hina massacrata da suo padre. E ancora voglio un figlio ma senza impegno. Si chiama co-genitorialità. Ci si accorda online per fare un bambino e non avere relazioni. Andiamo sul secolo d'Italia. Il titolo Raggi inutile. Così il quotidiano che fa riferimento a Fratelli d'Italia. Nel taglio basso il primo piano. Fascismo, penso al futuro. Meloni, io nata nel 77. Poi neve a Roma, blocca d'Italia. Caos e ritardi per Burian. E poi ancora Gasparri rifiuta la Bonino. Lei è come il prezzemolo. Andiamo su avvenire. Il quotidiano cattolico in apertura. Alle urne programmi senza sostenibilità. Il fatto, Renzi dice, resto qualunque sia il risultato del PD. E Di Maio accelera sui ministri. Un caso nel centro-destra per il dialogo tra Lega e Casa Pound. Intanto la Svisse severa con i partiti sulla sostenibilità delle proposte, soprattutto economiche, nei programmi di governo dei vari partiti. Rush finale per il voto. Siamo agli sgoccioli. Scendiamo adesso a centro-pagina. La Corte Suprema dice no a Trump sui baby migranti Stati Uniti. Il Presidente vuole espellere gli irregolari. Nella fotografia, protesta a Gerusalemme contro la tassazione dei beni ecclesiastici. Chiuso il Santo Sepolcro. Basta con le persecuzioni. Andiamo sul secolo XIX. In apertura il quotidiano genovese titola Prigionieri sui treni, fermi nella bufera. Ritardi oltre le 5 ore. Il ministro del Rio chiede spiegazioni. Neve e ghiaccio mandano in crisi la rete ferroviaria. Migliaia di viaggiatori bloccati. Proteste nelle stazioni. E poi in cento rifiutano gli aiuti. Salvata una giovane madre. 20 miglia. Allarme gelo per i migranti al confine con la Francia. Proseguiamo con il mattino di Napoli. Nel taglio alto troviamo lo sport. Fanta Napoli sulla partita di ieri a Cagliari per gli azzurri. Una cinquina da scudetto firmata a Kayekon. Merten, Samsic, Insigne e Mario Rui. Partita come avete letto finita 5 a 0. Ma il titolo principale sul maltempo. L'Italia tradita dai binari gelati. Neve su tutta la penisola. Roma nel caos. In campagna. Scuole chiuse in Irpinia e nel Sannio. Il flop della stazione Termini spezza il paese in due. Ritardi fino a 7 ore. E poi ancora Abusi. La Curia chiese di ritirare la denuncia. Pressioni sulla sorella della vittima. Indagano i PM. Il prete in affari con la veggente di Meggiugorie. C'è l'intervista del mattino. Il vescovo Spinillo. Io ingannato. Non ho nascosto. Nel taglio basso andiamo a vedere. Banche bruciate. 7 mila posti al sud. Meno sportelli al nord. Ma nella riorganizzazione si paga di più. Riorganizzazione che sta interessando. Questa è una notizia che non riguarda soltanto il sud Italia. Intese le regioni più meridionali. Ma riguarda anche la nostra regione. Con le riorganizzazioni che stanno portando avanti le banche. Anche dopo il caso del crack di Carichieti. Andiamo sui quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. In apertura c'è il Milan. La svolta Milan con Rino Gattuso. Ha cambiato faccia. Rinati, scrive la Gazzetta. Zero sconfitte nel 2018. Gioco e identità. Ringhio ha ribaltato la squadra e spaventa l'Inter. Derby con progetto sorpasso. Ma l'ex Nicola Berti non ci sta e dice vinciamo noi. Andiamo a vedere il taglio alto invece dove c'è il Napoli. Napoli da 10. Gol e spettacolo a Cagliari. Decima vittoria. Scatto a più 4 perché non si è giocata a causa della neve la partita fra Juventus e Atalanta. Posticipo di A, la capolista vince 5-0 e rafforza le ambizioni di Scudetto. Assegno Kayekon, Merten Samsic, Insigne e Mario Rui. Sarri esulta e lancia un messaggio forte ad Allegri che ha una gara in meno, come detto, a causa della neve. Poi la Juve, ultimatum Juve-Emercan, incontro e firma in 7 giorni oppure niente accordo. Andiamo nel taglio basso perché torna la nazionale. Conte CT, Bigli vuole fare il bis di Biagio, intanto richiama Buffon, il vice commissario della FIGC e la panchina della nazionale. Costa Curta dice Antonio il migliore, lo sentirò tra due mesi. Il traghettatore di Biagio sul numero 1 Buffon, altre 2-3 gare in azzurra. E' quanto ha chiesto di Biagio a Buffon per non lasciare con l'amaro in bocca rispetto alla sconfitta contro la Svezia che ci ha escluso dai mondiali. E' morto il fratello di Massimo Moratti. I Moratti in lutto addio a Gianmarco nel suo cuore Inter e San Patrignano. Aveva 81 anni, guidava la Saras, azienda di famiglia. Andiamo avanti sul Corriere dello Sport. Il titolo qui è sul Napoli, il titolo principale, scappa Napoli. Spettacolare cinquina Cagliari in gol. Cagliegon, Mertens, Samsic, Insigne e Mario Rui. Sarri vola più 4 e miglioreremo ancora, dice. Nel taglio alto Gattuso si scalda. Coppa Italia domani sera alla semifinale di ritorno allo Stadio Olimpico. Le squadre bloccate dalla neve in saghi e ringhio furiosi per l'imprevisto con la Lazio. Servirà una partita perfetta. E intanto lancia Kalinic. Andiamo nel taglio basso. Troviamo la Roma. Roma difra dipende dalla Champions. L'allenatore sottotiro per salvarsi dovrà arrivare tra le prime 4. e non sarà, aggiungiamo noi, un'impresa molto semplice. Nazionale, confermato Balotelli e Buffoni in azzurro con Di Biagio. E poi la B in campo. Salerno a picco, Colantuono, Rischia, il Parma, Sale. Rinvio per neve a Pescara. Occasione Bari. Il Palermo cerca il rilancio contro Cosmi. Andiamo a vedere anche tutto sport. In apertura c'è, come di consueto, la Juve. Scansopoli avete rotto, sempre contro la Juve. Soliti veleni, soliti sospetti. Stavolta si discute la formazione annunciata dell'Atalanta per il match rinviato a Torino. Ma Gasperini ha sempre fatto ricorsa al turnover, anche quando ha battuto il Napoli in Coppa Italia. E poi nel taglio alto il Torino. Le lettere. Cairo, ora vendi il Toiro. Il dialogo con i sostenitori Granata. Tifosi sconsolati per l'ennesima stagione senza obiettivi. Le scelte dell'allenatore. Mazzari lancia qualche giovane. I big sono a rischio. Di spalla troviamo il Milan. Il rilancio. Fassone. Champions. Milan. Devi crederci. Con la cura Gattuso. Direi che possiamo fermarci qui per la prima parte. Adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo con gli esperti di Meteo 6. Poi torniamo dopo il break pubblicitario con la seconda parte per aprire le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Andiamo ad aprire le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Partiamo dal centro. In primo piano. Abruzzo verso il voto del 4 marzo. Andiamo a vedere. Tagliando antifrode sulle schede è un'altra novità delle elezioni. Serve per evitare brogli alle urne. Il cittadino non deve staccarlo. Altrimenti annulla la preferenza. E per chi non conosce ancora le regole, ecco i tre esempi su come e dove apporre la o le croci. Allora andiamo a vedere le tre ipotesi. L'ipotesi 1 è la croce solo sul simbolo. L'ipotesi 2 è la croce sia sul simbolo che sul nome del candidato all'uninominale. La terza ipotesi è la croce soltanto sul candidato all'uninominale. Queste sono le tre modalità di voto. Andiamo a vedere nel taglio basso. In 5 anni restituiti 627 mila euro ai cittadini. Questo è il bilancio fatto dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. che difendono la scelta di Zeman che ha manifestato il suo apprezzamento per il Movimento 5 Stelle. Proseguiamo con la pagina politica. Apre a pescare Equitalia Giustizia. Assume 30 giovani impiegati. La soddisfazione di Federica Chiavaroli. E poi scendiamo nel taglio basso. I 41 milioni dal Cipe fondi all'Abruzzo scontro tra Forza Italia e D'Alfonso. Approfondiamo questo scontro sulla pagina Abruzzo della città. D'Alfonso fa campagna con risorse virtuali. Dicono Febbo e Sospiri che attaccano. Spaccia già come finanziate opere che sono solo un elenco di richieste. E allora andiamo a fare un po' il punto della situazione politica nel servizio. Da parte del centrodestra continuano gli strani diretti al Partito Democratico ma soprattutto al governatore della regione Luciano D'Alfonso che scaldano la campagna elettorale entrato ormai nell'ultima settimana utile prima del voto del 4 di marzo. Sotto la lente di ingrandimento dei consiglieri regionali Febbo e Sospiri ancora una volta le di libere di giunta e in particolare la 83 del 2018 che dispone il finanziamento di sette opere strategiche che vanno dal potenziamento della tratta ferroviaria della Val di Sangro ai porti di Pescara, Roseto e Franchevilla al Mare fino all'accesso dei bacini sciistici della Maiella e del comprensorio di Ovindoli e di Prati di Tivo. Il tutto per una cifra complessiva di 40 milioni di euro 40 fantamilioni li definiscono gli esponenti forzisti. Mentre prima la settimana scorsa abbiamo detto che erano stamperie di falsario oggi veramente parliamo di truffa ai danni degli abruzzesi. leggere la delibera 83 fondata su una lettera che il Presidente che sta scappando a Roma scrive al Del Rio, altro Ministro che la settimana prossima andrà via per richiedere un finanziamento di 40 milioni su sette opere importanti strategiche che noi condividiamo e basare questa delibera su una telefonata cioè quindi per le vie brevi come se tra il Ministero e il Cipe e la Regione Abruzzo si parlasse telefonicamente non con atti ufficiali per aver fatto questa delibera. Perché le ultime attenzioni vere su grandi infrastrutture che ha avuto questa Regione le ha avute quando Sipio Berlusconi era Presidente del Consiglio. Siccome vediamo il panico del Presidente della Regione ci siamo portati avanti con il lavoro e abbiamo indicato al Presidente Berlusconi che quando legge Abruzzo ha sempre un posto speciale nel cuore libero per ascoltare e permettere delle risorse disponibili gli abbiamo appuntato quali sono le vere necessità infrastrutturali di questa Regione che speriamo con la vittoria del centro-destra delle elezioni politiche possa rimettere in cima l'azione di governo. A stretto giro a Forza Italia risponde il Partito Democratico con Camillo D'Alessandro. C'è una novità tra le opere strategiche inserite nel quadro dei finanziamenti con fondi FSC stanziati dal Ministero dei Trasporti per l'Abruzzo dice D'Alessandro, oltre ai sette interventi già programmati con la delibera 83 del 20 febbraio sono stati concessi ulteriori fondi per 1.600.000 euro che saranno dedicati ad interventi per la sicurezza sismica e funzionale delle dighe esistenti. Credo, continua D'Alessandro, che in nessun altro momento della vita ultra-quarantennale di questo ente siano fluidi in Regione così tanti finanziamenti di fonte governativa. Intanto a Teramo, per iniziativa di Gaetano Quagliarello è stato presentato il libro sulle banche di Maurizio Belpietro focus sulla vicenda Banca Etruria sottotiro l'ex ministro Maria Elena Boschi e la gestione della crisi delle banche tra cui anche l'abruzzese Carichietti da parte del governo Renzi. Avevo già raccontato una serie di fatti che riguardavano Renzi i segreti di Renzi del gruppo di poteri che ruota intorno a Matteo Renzi al segretario del Partito Democratico l'avevo raccontato in un libro che si chiamava appunto i segreti di Renzi ma in questi anni poi c'è stato bisogno di scrivere altro e quindi di raccontare altri segreti e quindi ho scritto questo libro che chiama i segreti di Renzi 2 e aggiunge anche i segreti della Boschi perché ci sono una serie di vicende che hanno riguardato le banche che hanno riguardato altri fatti che hanno riguardato anche il ruolo di Maria Elena Boschi che secondo me andavano descritti e soprattutto portati all'attenzione dell'opinione pubblica Di banche si è parlato anche a Lanciano in un incontro organizzato dal Movimento 5 Stelle ospite Elio Lannutti fondatore dell'Associazione di Consumatori Difesa Utenti Servizi Bancari Finanziari Assicurativi che ha approfondito il tema del convegno dal titolo Banche e Finanza dove va l'economia Movimento 5 Stelle che a Pescara continua a battere sul tema della restituzione degli emolumenti percepiti per le funzioni istituzionali dopo le critiche ricevute dai grillini per i mancati bonifici da parte di alcuni parlamentari i consiglieri regionali abruzzesi dicono abbiamo restituito oltre 600 mila euro Sì, 627 mila euro per la precisione in 5, in 3 anni e mezzo questa è la cifra che siamo riusciti a mettere da parte e che abbiamo destinato ai cittadini abruzzesi con la prima tranche abbiamo creato un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che ad oggi ha finanziato oltre 70 imprese abruzzesi quindi piccole e medie imprese del territorio con 220 mila euro lo scorso anno dopo l'ondata di maltempo e l'abbondante nevicata che ha paralizzato Regione Abruzzo abbiamo acquistato e donato alla protezione civile di Regione Abruzzo una turbina spalaneve che oggi che nevica probabilmente sarà in giro per le strade d'Abruzzo a liberare le strade con 5 mila euro gli ulteriori 5 mila euro li abbiamo destinati alla premiazione del contesto di idee riscattiamo bussi pagina Abruzzo sul centro cambiamo decisamente argomento antigelo finito gli aerei non decollano disagio l'aeroporto d'Abruzzo per otto ore sospesi anche i treni per Teramo e Sulmona Ortona chiude il porto restiamo ancora ancora al maltempo sulla città liceali bloccati a Ciampino sotto la neve dopo 48 ore di attesa volo annullato e niente viaggio di istruzione all'estero per gli studenti giuliesi del Chiuri restiamo ancora al maltempo nelle pagine Abruzzo del Messaggero nella morsa del gelo neve più spettacolo che emergenza ma arriva il ghiaccio a Pescara 9 ditte 19 mezzi al lavoro 60 tonnellate di sale per ripurire le strade la spiaggia imbiancata finisce in tv Blasioli e Teodoro superate le criticità nel taglio basso treni e autobus a Singhozza aeroporto chiuso strade ok proseguiamo ancora con il maltempo l'incubo del termometro per l'Aquila imbiancata una trentina di centimetri nel capoluogo criticità maggiori in periferia e a Campotosto utilizzate 100 tonnellate di sale sulle strade altrettante sono in arrivo per i prossimi giorni e poi nel taglio basso il fucino come la Siberia la colonnina fino a meno 20 ancora avanti Buran ferma la Sevel bus in difficoltà scuole ancora chiuse adesso si teme il colpo di coda chiede il sindaco ferma il mercato arrivato per tempo in prefettura il camion con le schede elettorali nel taglio basso salsicce spiagge innevate sui social e guerra dei post passiamo invece adesso alla pagina di politica del messaggero le sfide nei territori nel chietino regna l'incertezza verso lo sprint a 3 2 le donne in corsa Marus Camiscia del PD e Carmela Grippa dei 5 Stelle il loro competitor del centrodestra e si chiama Enrico Di Giuseppe Antonio proseguiamo ancora nel taglio basso guerra dei numeri forse Italia d'Alfonso i soldi per le dighe sono fanta milioni e lo abbiamo ascoltato nel servizio restiamo ancora sul messaggero adesso andiamo ad aprire la pagina di Pescara comune poste tagliano le code con il nuovo sistema elettronico attivato da un mese basta mezz'ora per una pratica all'URP di Palazzo Città l'attesa media è di un quarto d'ora la sede centrale di Corso Vittorio Emanuele per bollettini o raccomandate le informazioni sui tempi sono più chiari per gli utenti dice il dirigente Marco Molisani andiamo nel taglio basso buche profonde come crateri asfalto speciale per le toppe il vice sindaco Blasioli dice parte subito partiranno subito gli interventi imprese mobilitate nei quartieri ad aprile invece i lavori sulle riviere restiamo alle notizie dall'area metropolitana a pestaggio sulla golena i feriti sono tre ricoverati anche due amici delle trentenne di Silvi il più grave sono stati aggrediti dopo aver ricevuto un soccorso stradale già arrestato dalla polizia il responsabile è un romeno di 19 anni denunciato l'amico minorenne che era con lui andiamo di spalla a Città Sant'Angelo maggioranza fragile rischio bilancio per Florindi dopo lo strappo in maggioranza con liberi e uguali andiamo a vedere le altre notizie case per disabili e pendolo la parola passa al consiglio giovedì in aula le due delibere proseguiamo con penne penne inchiesta sui lavori all'istituto tecnico Marconi c'è stato un blitz in comune con i carabinieri che hanno prelevato nei giorni scorsi il carteggio prima di passare alla pagina di Chieti sul centro sul messaggero scusate torniamo sul centro andiamo a vedere le pagine di Pescara notti da incubo palpeggiate picchiata dentro un locale la vittima a 21 anni l'episodio risale alla notte di carnevale la ragazza è stata accerchiata da 5 giovani la giovane stava entrando in bagno quando è stata molestata dal branco ha cercato di difendersi e l'hanno presa a schiaffi e calci l'hanno rotto anche un dente decisivo l'intervento della sorella più piccola per far destare e desistere il gruppetto la vittima è stata poi portata in ospedale con l'ambulanza e poi ancora preso uno degli aggressori della Golena la polizia ha arrestato un romeno di 19 anni e denunciato un 17enne intanto migliorano le condizioni della vittima proseguiamo emergenza maltempo via del circuito buche a 10 mesi dai lavori la strada asfaltata ad aprile è diventata una groviera con pioggia e neve il comune apre un'inchiesta di saggi in città per l'ondata di freddo siberiano ancora assistenza ai poveri per 24 ore pasti e spettacoli al centro britti nella struttura di via ario sparto 50 sono i senza tetto proseguiamo ancora con le pagine di pescare il futuro dell'ex corridoio verde i residenti della strada parco no ai bus elettrici sia ai pedoni il comitato di 500 cittadini e ambientalisti si oppone al nuovo progetto di tua il precedente quando manifestarono in 3000 il 2 ottobre del 2010 i pescaresi scesero in strada per protestare contro la filovia andiamo ancora avanti sul quotidiano il centro contro il rischio tumori si fa poca prevenzione l'allarme lanciato da lombardia l'assemblea della lilt che ha svelato i dati dell'abruzzo siamo ultimi in italia in crescita gli iscritti all'associazione intanto parte la campagna di informazione a scuola scendiamo a centro pagina legale contro le discriminazioni sul lavoro l'avvocato Mastrangelo nominata consigliere di parità provinciale la sua attività sarà gratuita gli interventi sulle periferie opera di Suma in piazza caduti del mare proseguiamo sempre sulle pagine di Pescara avvocati attori al circus in scena per beneficenza i proventi dello spettacolo in programma venerdì alle 21 saranno destinati al progetto arredi di adricesta per il reparto di pediatria dell'ospedale di Pescara il 23 marzo a Roma c'è la cerimonia Santa Maite il premio alla carriera della società di pedagogia andiamo sulla pagina di Montesilvano in fuga sulla variante pirata della strada individuata l'auto caccia una Clio blu dopo il drammatico tamponamento di domenica mattina la stradale stringe il cerchio sull'automobilista in fuga per il maltempo intanto restano chiuse anche oggi scuole parchi e cimitero di Montesilvano andiamo ancora avanti nella pagina dell'area metropolitana sindaci e province la strada 602 torni alla gestione dell'anas vertice con governatori tecnici e sindaci amministratori di Pescara e l'Aquila affari puntati sui problemi di sicurezza che attanagliano la ex statale gestita da 15 anni dagli enti locali la cronaca fiamme nell'abitazione sopra al ristorante pianella l'incendio si è propagato da un armadio al piano superiore del locale poggio del sole nella pagina di Francavilla un uomo denunciato ritrovano mamma e papà e li salvano dal truffatore la storia di Nadia e Bartolo raccontata dalle Iene in diretta tv i due coniugi disabili hanno riabbracciato le figlie dalle quali erano stati separati vent'anni fa e poi scuole e neve Luciani contestato lezioni regolari anche oggi il sindaco si difende le critiche sono inevitabili per la decisione di Francavilla di tenere aperte anche ieri le scuole andiamo nella pagina della Val Pescara donatori di sangue in calo serve l'aiuto dei giovani popoli il presidente dell'Avis Cerasoli traccia un bilancio dello scorso anno appello per trovare nuovi volontari dopo l'avvio di un ricambio generazionale ancora strade pulite ma il pericolo il ghiaccio a Caramanico Pesco Sansonesco e Sante Ofemia scuole chiuse anche oggi mezzi spargisale in azione nel taglio basso cittadella dello sport via i lavori penne dalla regione 270 mila euro per gli interventi su Palatenda e Palazzetto adesso apriamo la pagina di Chieti sul centro i danni dal grande freddo crateri sull'asfalto allarme strade distrutte il manto si sbriciola dopo una settimana di pioggia e un giorno di neve di primio il sindaco di Chieti dice subito le riparazioni ma temiamo l'arrivo del ghiaccio intanto a Chieti scuole e università restano chiuse andiamo nel taglio basso finiti i lavori del nuovo asilo per 60 bimbi a Chieti Scalo cambia piazza Carafa conto alla rovescia per l'abbattimento del rudere dell'ex poste proseguiamo sempre sulle pagine di Chieti andiamo a vedere il titolo di cronaca guidava l'auto sotto l'effetto di droga a testa denunciato il conducente per l'incidente di sabato il mistero della vendita del parco Aqualand polemica vasto d'Alessandro patrimonio dei residenti a chi finirà il sindaco dice non lo cediamo e ancora nel taglio basso basta viaggiare con autobus rotti eccellenza sul trinio scusate protestano 40 studenti diretti a vasto sempre dalle pagine della provincia evade il fisco 9 case sotto sequestro è stato scoperto dalla finanza un imprenditore indagato per dichiarazioni infedele omesso versamento di ritenute bloccati beni per 234 mila euro nel successo ad Ortona andiamo sulla pagina di Chieti del messaggero in apertura la sanità barelle con i malati nei corridoi siamo all'ospedale ovviamente reparti nel caos nelle unità di medicina generale 11 letti in corsia calpestate privacy e dignità esplode la rabbia dei parenti dei malati anche medici infermieri sono in difficoltà andiamo avanti andiamo sulla pagina di Teramo del messaggero e qui in apertura c'è il maltempo Buran poca neve bus bloccati consumatori troppo allarme mezzi pubblici a singhiozzo in mattinata e poi treni cancellati pendolari a piedi accessi minimi al pronto soccorso oggi temperature giù e timori per il gelo oggi asili e scuole chiusi salta la raccolta dei rifiuti disattivati varchi ZTL la mentele per lo sbarcimento del sale nelle frazioni di Teramo e poi il teatro romano esposto contro la copertura proteste sui social molte le polemiche sul progetto ereditato dall'aggiunta Brucchi e ancora nel taglio basso San Gabriele oggi la prova di fede con i pellegrinaggi migliaia sfidano il maltempo per il transito del santo protettore dei giovani alle 6 e 30 andiamo nella pagina della provincia gelo e allarme neve scuole ancora chiuse in arrivo la burrasca sale sparso sui marciapiedi delle vie del centro storico e del Lido e sacchi a disposizione anche dei residenti andiamo a vedere sul quotidiano il centro la pagina di Teramo in apertura edilizia e burocrazia lavori nelle scuole non spesi 60 milioni i dati Filcacis sui fondi assegnati in provincia potrebbero aprire subito 68 cantieri ma non c'è nemmeno la progettazione nel taglio basso l'esposto sul teatro romano Chiarini e Topitti da verificare se la proposta di recupero corrisponde al progetto varato in consiglio comunale andiamo nella pagina della provincia area delle baracche altra asta deserta a vuoto il quinto tentativo di vendita del terreno sul lungomare sud di Roseto l'incasso servirebbe a ripianare il buco di bilancio nel taglio basso e qui possiamo vedere anche delle immagini in fiamme il tetto di una villetta paura in via De Nicola a Roseto ecco qui le immagini l'incendio c'erano anche due bambini piccoli sono andati avanti per ore le operazioni dei vigili del fuoco di spegnimento di questo tetto in legno di una villetta a due piani che è andato a fuoco chiaramente i locali sottostanti sono inagibili a causa delle macerie anche dell'acqua usata per lo spegnimento delle fiamme fortunatamente non ci sono stati feriti anche i due piccoli che dormivano all'interno sono stati tratti in salvo possiamo andare avanti ancora con le pagine di teramo e provincia sul quotidiano il centro atri sotterranea via recupero di scuderie e grotte da parte della fondazione tercas silvi apertura da record per la nuova piscina nel centro universo e poi a centro pagina rinasce la proloco c'è il nuovo direttivo a pineto andiamo sulla città per completare la lettura delle notizie da teramo e provincia abbiamo il maltempo pochi disagi dalla neve ma è allarme per il gelo abbiamo visto anche in precedenza non ci sono state grandi criticità per fortuna traffico regolare per quanto riguarda la viabilità sulle autostrade abruzzesi difficoltà invece per le ferrovie con diversi treni sospesi anche nella giornata di oggi andiamo a parlare adesso del teatro romano nel dubbio meglio l'esposto teramo nostre confesarcenti chiedono alla procura di verificare il progetto andiamo a parlare di sanità primari basta con le promozioni a crocetta il direttore generale della asla roberto fagnano striglia i capi di partimento per le valutazioni troppo generose e poi il commissario prefettizio di teramo allarga la gara della team firmata la delibera per fissare i nuovi criteri per rendere più appetibile il 49% delle quote sempre a teramo oggi e domani la spazzatura resta in casa il personale della team impegnato anche a spargere il sale non è sufficiente a coprire i turni fino a giovedì la villetta in fiamme a roseto abbiamo visto già in precedenza la bonifica gli altri piani della struttura sono stati dichiarati inagibili a causa soprattutto delle macerie e del fumo prima di passare allo sport andiamo avanti con la lettura delle pagine interne del centro e messaggero ed andiamo a vedere adesso la pagina dell'Aquila sul messaggero 40 milioni per i cantieri a se centrale verso la rinascita rilasciato il 28esimo elenco dei contributi ci sono aggregati di peso in centro e nelle frazioni quasi completato il quadro di Santa Giusta al via anche un grande aggregato a Piazzale e Paoli per molti edifici è stata confermata l'integrazione destinata agli elementi di pregio originari e questo per quanto riguarda la ricostruzione nel taglio basso aggressione in casa Bromo resta dentro il piccolo imprenditore accusato di aver picchiato un ex politico e la sua compagna andiamo avanti nella pagina di Avezzano Sulmona sindaco summit nella sede di Forza Italia siglato dopo il vertice un documento firmato da Forza Italia Udcino i Consalvini e da tutto il centrodestra unito si tratta di un soccorso al primo cittadino di missionario Gabriele De Angelis ieri presente Cipolloni smentisce per ora 300 righe di promesse in tre pagine santificate tra virgolette da autorevoli presenze noi andiamo ad ascoltare proprio un'intervista al sindaco di Avezzano De Angelis sulla situazione in comune sulle sue possibili dimissioni io adesso ho detto più volte che dovevo concludere alcune cose che sono assolutamente importanti e ve ne rendete conto ancora meglio tra qualche giorno di che cosa dovevo seguire fino alla fine dopodiché dovremmo vedere se ci sono le condizioni le disponibilità per poter governare ancora da Avezzano coinvolgendosi in una traccia che ormai in qualche maniera è stata impostata oppure no ma con tutta serenità quindi lei rimane fermo sulla posizione del fatto che l'accordo il programma di mandato che lei ha sottoscritto comunque non si cambia nel caso in cui si possa continuare a governare la città di Avezzano si deve continuare a governarla con quel programma il programma di mandato l'hanno votato i tantissimi cittadini che al ballottaggio hanno sancito la vittoria di un sindaco che l'ha redatto adesso questo è tra l'altro la traccia portante ma soprattutto intorno a questo programma di mandato abbiamo fatto già degli investimenti importanti ma io ritengo che poi alla fine ci sia ragionevolezza anche per capire queste cose ad ogni modo insomma a me può essere sfuggito anche un qualcosa che non ho scritto là sopra se è nell'interesse della città perché non recepirla insomma non è che siamo bulgari e chiusi a questa cosa andiamo avanti la pagina dell'Aquila sul quotidiano il centro la ricostruzione post sisma 2016-2017 crolla il solaio della chiesa appena riaperta sfiorata la tragedia a Marucci di Pizzoli il parroco Don Medina dice il soffitto è venuto giù 5 minuti dopo la fine della messa e poi addio a Tracanna il sindaco dei celanesi fu esponente di spicco del partito comunista nel taglio basso Avezzano un patto per salvare il sindaco maggioranza a rischio i big del centro-destra appoggiano De Angelis nella partita c'è anche l'Udc i problemi della sanità nella pagina successiva offro il mio voto per un posto letto l'ex assessore Pappalepore e per mio padre colpito da una ischemia l'ASL problema risolto l'uomo è stato ricoverato ancora coppia aggredita in casa l'indagato si difende l'aquilano Marco Bromo dal jeep nel taglio basso indagini chiuse sulla morte di Miria Ciarma nello schianto di Capestrano perse la vita l'operatrice culturale di Chieti nel mirino il giovane a bordo dell'altra auto passiamo adesso allo sport e siamo alla gara di questa sera tra Pescara e Carpi che è stata rinviata Pescara cambia marcia non vedo gente affamata il tecnico Camplone fuori dalla mischia squadra piatta non è brillante la neve e il ghiaccio fanno saltare la sfida contro il Carpi in programma all'Adriatico Cornacchia il recupero molto probabilmente ci sarà il 13 di marzo andiamo a vedere la pagina dell'Abruzzo Sport sul messaggero Pescara Carpi rinviata per neve l'apertura della pagina sportiva il 13 marzo la data probabile del recupero ma bisognerà attendere l'ok della Lega di B decisione presa dal sindaco Alessandrini lo stadio al gelo diventava pericoloso andiamo a vedere le altre notizie Torreira batte il maestro Oddo mi ha cambiato la vita e nel taglio basso invece troviamo la Serie D l'Aquila Slit l'Assemblea Societaria la Di Miani non conta il quantum ma il modo il pareggio nel derby va in archivio andiamo a vedere il titolo sulla Serie C da parte del messaggero Teramo bacio Terracino in forte dubbio per Padova l'uomo migliore si è infortunato non ci saranno neanche Varas e Amadio Campitelli si sfoga in tv contro i tifosi fischi generosi sui nostri giovani completiamo la lettura del messaggero con la Serie D stesa in crisi profonda Bolami attacca i giocatori paradossalmente ancora nei playoff ma per disgrazie altrui poi ancora Tomassini fa uscire Pineto dalle secche una doppietta fondamentale ora i playoff sono a tre punti e finalmente pochi cartellini ancora Serie D Paris Avezzano sbagliato io si doveva rinviare la partita andiamo a vedere adesso il titolo del quotidiano il centro sul Teramo e quindi siamo tornati in Serie C Campitelli Teramo ormai è una piazza fuori controllo il patrono contro i contestatori non immaginavo si potesse arrivare a tanto se l'avessi saputo non avrei preso la squadra in promozione dieci anni fa e poi ancora l'eccellenza Giulianova le mani sulla D ora la coppa il sorriso di Marinelli delle Chieti che emozione tornare in campo dopo l'infortunio completiamo anche la lettura del centro delle pagine dello sport del centro Bolami Candeloro contatti per un progetto condiviso siamo chiaramente in Serie D i presidenti di Vastese e Francavilla al lavoro per creare una filiera di società aperta a una terza realtà il derby San Nicolò l'Aquila forse viene anticipato a sabato nel taglio basso troviamo anche i direttanti la promozione con la capolista sugli scudi Delfino l'accelerazione di chi ha una marcia in più la prima categoria con il Lanciano che ha la media goal più alta in Abruzzo 4,1 a partita e poi il basket la C-Silver ripartirà con Magic Chieti Vasto nella pagina successiva il basket ancora il rosetto Sharks ci ricasca ma la salvezza è possibile distratti e svogliati a Imola ora i biancazzurri devono cambiare marcia la pausa per la Coppa Italia servirà a recuperare Luposor e Casagrande nel taglio alto c'è il calcio a 5 con il Pescara che crolla nel posticipo contro il Caos e poi troviamo anche la palla a volo di A2 Sieco col fiato sospeso per Banks domani ci sono gli accertamenti il softball le abruzzesi in azzurro Giudice Marrone nell'Italia che sarà Pescara l'11 marzo e poi c'è anche la ginnastica ritmica e ritmica l'armonia domina anche Ortona andiamo a vedere e completiamo lo sport con la pagina dello sport della città torniamo a parlare di Teramo alla ricerca di qualcosa da cui ripartire Teramo allo sbando l'ultimo posto è a un passo e nel weekend c'è il Padova con l'istoria di una parabola dirigenziale in fase calante ormai da tre stagioni questa è la disamina del nostro collega Jacopo Forcella progetti fragili ogni allenatore nuovo ha fatto rimpiangere i gestioni precedenti così anche i giocatori e poi il disastro tecnico la gara col Bassano è l'emblema di una povertà tecnica che fatica a far integrare vecchi e nuovi questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la nostra rassegna stampa mattino 6 torna domani alle ore 8 la nostra informazione oggi con le tre edizioni delle telegiornali alle 14 alle 19 e alle 23 grazie per essere stati con noi e buona giornata grazie per la visione grazie per la visione grazie per la visione grazie per la visione